Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguri. In questo video parliamo di un drammatico fatto di cronaca del ultimora, un malore improvviso strappa via alla vita e all'affetto dei suoi cari. Il giovane ragazzo di appena 30 anni si chiamava Luca Fontana, residente a Romagnano ma originario di Marina di Massa. Luca per anni aveva lavorato come cameriere ma di recente stava pensando di tornare sui banchi di scuola e di iscriversi all'università ma come detto un malore gli ha strappato improvvisamente il futuro. La procura ci fa sapere che ha aperto un fascicolo per comprendere quali siano le cause del decesso. Intanto il secondo giovane di Marco Liguri fa le più sentite condoglianze a Luca Fontana volato in cielo a soli 30 anni. Amici di Youtube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi sulla pagina Facebook Marco Liguri, seguitemi anche sul primo giovane di Marco Liguri. Ciao a tutti.